Benvenuti e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conosce, sono Paolo Zappatoi di TechPaolo.it e questo particolare episodio lo stiamo girando in quanto sono stato ufficialmente ammesso ed iscritto al corso di formazione di Terra Terra 2023. È un progetto sulla sostenibilità nato da un'idea condivisa tra il Parlamento Europeo in Italia, YouTube, e le IIS, l'Istituto Europeo dell'Innovazione per la Sostenibilità. L'edizione del 2023 di Terra Terra è stata offerta a tutti noi creator di partecipare sostanzialmente senza alcun costo ad un training online sviluppato appunto con il supporto delle IIS per approfondire i grandi temi legati alla sostenibilità. Ovviamente la piattaforma sarà totalmente online e i contenuti del training saranno in formato on demand. Inizieremo oggi 20 febbraio e la durata del corso sarà fino al 5 marzo, quindi fino a tale data sarò completamente preso ed impegnato al fine di completare i vari moduli di apprendimento ed ottenere la tanta agognata certificazione rilasciata appunto dalle IIS. Innovazione e sostenibilità infatti non sono più concetti utilizzati per aumentare la popolarità di un marchio. Oggi secondo me sono necessari per aumentare, per aiutare le persone e le organizzazioni a costruire un futuro migliore, quindi aiutarci a costruire un futuro migliore. Partecipare a questi programmi di certificazioni mi consentirà e consentirà anche agli altri creator che hanno aderito all'iniziativa di acquisire competenze e conoscenze su questi argomenti, padroneggiare gli strumenti giusti per affrontare con successo un mercato del lavoro in continua evoluzione. Il motto dell'Istituto Europeo dell'Innovazione per la Sostenibilità è il seguente, formiamo individui e aziende sui cambiamenti necessari per raggiungere uno sviluppo sostenibile. Difatti all'AES non ci sono né studenti né professori, ma solo persone. Non ci sono cose da manualizzare, ma solo cose da scoprire. Infatti da tanti anni l'obiettivo dell'AES è creare connessioni proficue fra individui, aziende e istituzioni. Entrando a far parte dell'AES entrerò anch'io a far parte di una grande comunità impegnata ad avere un impatto concreto per risolvere le più grandi sfide legate alla sostenibilità del nostro tempo. Con questo ragazzi vi terrò aggiornati, cercherò di documentare quanto più possibile tutta quella che sarà la parte di formazione e di certificazione, perché l'impegno che ci sta mettendo YouTube all'interno di questo programma, di questa iniziativa è veramente tanto e vale la pena di valorizzarlo, sia per noi ma per tutta la comunità. Sono temi che non vanno sottovalutati e lo scopriremo appunto in questi giorni. Nel frattempo vi saluto, io spero di aver registrato delle puntate nel frattempo da mandare in esecuzione fino al 5 marzo in maniera da non lasciarvi completamente soli. Un saluto e ci vediamo subito dopo la certificazione con un bel resoconto.